L'Abruzzo è la prima regione in Italia per capacità di sequenziamento del covid. Secondo uno studio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo tra il 28 dicembre e il 19 maggio, la media abruzzese di casi sequenziati è stata del 6%, mentre ben 11 regioni non raggiungono l'uno. Al contempo un monitoraggio della Fondazione Gimbe ha rilevato che nelle ultime tre settimane in Italia ogni giorno si fanno circa 200.000 test in meno, ovvero un terzo di quanti se ne facevano nel periodo precedente. In Abruzzo i tamponi molecolari analizzati oggi sono stati 2.608 e hanno permesso di individuare 45 casi di contagio per un tasso di positività dell'1,7%, il più giovane tra i contagiati a tre mesi, il più anziano 91 anni. Di questi 21 sono residenti in provincia dell'Aquila, 14 in quella di Teramo, 6 nel Pescarese e 3 nel Chietino. Per due persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 2.490. 174 sono i guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo rispetto a ieri diminuiscono di 133 unità, ne sono 5.145. Di questi 105 pazienti, meno 14 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 10, due meno rispetto a ieri sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 positivi, 117 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto prosegue la campagna vaccinale dopo l'apertura delle prenotazioni anche ai più giovani. Da domani sulla piattaforma Poste sarà dedicata un'apposita sezione riservata ai donatori di sangue per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione.